Il progetto Resmaris ha al suo interno anche delle azioni di sensibilizzazione che si amplificano enormemente durante il periodo estivo, quando la stagione balneare porta molti turisti a frequentare le spiagge e molti diportisti a frequentare il mare che si trova di fronte a queste spiagge. A entrambi possono essere dati brevi consigli che possono tradursi in accorgimenti senza alcun divieto particolare. In primis per i diportisti evitare l'ancoraggio specialmente dove c'è la banchetta e quindi i popolamenti di Posidonia, così come evitare il più possibile di utilizzare i motori presso le spiagge e certamente di non scaricare le acque di sentina. A invece chi frequenta le spiagge semplicemente vogliamo ricordare che se ciascuno di noi prima di allontanarsi dalla spiaggia si pulisce bene i piedi ed evita di portare via anche poco quantitativo di sabbia e al tempo stesso con sé invece porta via i propri rifiuti dei pasti magari consumati e tutto questo lo fa senza attraversare le dune, credo che l'ambiente ne possa beneficiare e con questi piccoli gesti si possano ottenere però grandi risultati.